Musica Tenta di accoltellare una cliente e le bariste, nuovo stop per il Bardesa, stavolta per 15 giorni, è il terzo nel giro di meno di un anno e mezzo. Riello di Morbegno verso la chiusura, le maestranze non ci stanno. Morbegno una seconda vita ai libri usati ma ci serve il vostro aiuto. Con i piedi nelle scarpe coach Busi fa rivivere a teatro il padre della sport terapia. Manenti, MGM in A2, abbiamo fatto la storia e non è finita. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. La goccia che ha fatto traboccare il vaso venerdì sera quando un uomo armato di coltello ha minacciato una cliente e le stesse bariste. Per questo il questore di Sondrio ha disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni del Bardesa di Piazzale Bertacchi. Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo nei confronti del locale nel giro di meno di un anno e mezzo. Non solo schiamazzi, avventori pluri, pregiudicati e risse. Venerdì sera all'interno del locale di Piazzale Bertacchi a Sondrio è spuntato anche un coltello. Coltello con cui un soggetto in evidente stato confusionale minacciava di ferire una ragazza e le stesse dipendenti del bar. E se per l'uomo, per immobilizzare il quale è stato necessario l'utilizzo della pistola Taser, sono scattate le manette per resistenza pubblico ufficiale, la denuncia a piede libero per oltraggio, per cosse, minaccia grave, porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Per il bar, il questore di Sondrio Carlo Ambroggio Enrico Mazza ha disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni. Per il bar in questione, il DESA, quello notificato alla titolare dell'esercizio questa mattina da personale della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, è il terzo provvedimento di questo tipo. Segue a un primo della durata di 5 giorni adottato nel gennaio 2023 e a un secondo di 10 giorni adottato lo scorso dicembre. Ciò nonostante, tra una riapertura e l'altra, gli interventi delle forze dell'ordine resisi necessari sono stati parecchi, quasi che il bar rappresenti un irrinunciabile ritrovo per chi ha voglia di mettersi nei guai e disturbare chi c'è e chi vive nei paraggi. Per i prossimi 15 giorni almeno il problema non si porrà. Resta invece da capire che succederà la riapertura del locale malfamato nel senso proprio del termine. Essendo di proprietà del Comune, non è escluso che di fronte a una situazione di turbativa per l'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica che non accenna a rientrare, se non con questi ciclici cartellini rossi, si assuma la decisione di destinare il locale a un utilizzo diverso. La mancanza di piani industriali di investimento e un progressivo invecchiamento degli impianti hanno portato alla crisi attuale. Le maestranze dell'Ariello di Morbegno, in un duro comunicato, lasciano intendere che l'annunciata imminente chiusura dello stabilimento sia stata in un certo senso voluta e preparata da una gestione non interessata a proseguire in bassa valle. Il servizio. La mancanza di piani industriali di investimento e un progressivo invecchiamento degli impianti ha portato alla crisi attuale. Chiediamo alle istituzioni locali e agli enti preposti di tutelare i lavoratori in questo difficile percorso, ricordando all'azienda i benefici ricevuti dal territorio, che certamente adesso ne esce interamente impoverito. Questa volta a prendere posizione sono direttamente loro, le maestranze dello stabilimento Riello di Morbegno, per cui la scura dei licenziamenti si avvicina. Nessun dietrofronte al momento, infatti, rispetto al recente annuncio della proprietà che dal 2020 appartiene alla multinazionale Career Corporation, di chiudere entro l'estate l'azienda assorta 32 anni fa grazie ai fondi della legge Valtellina. Sul finire degli anni 90 la Riello contava più di 500 dipendenti. Ora sono soltanto 61, dei quali 51 operai e 10 impiegati. I lavoratori tutti scrivono, vogliono portare a conoscenza dell'opinione pubblica il proprio rammarico e la propria indignazione nell'aver visto e constatato di persona nel corso degli anni. Il più totale disinteresse è la mancata capacità gestionale ed innovazione di Riello, prima e carriere dopo, che ci ha visti i protagonisti nel fronteggiare una situazione di profonda crisi aziendale con la perdita di 160 posti di lavoro nel 2012 con la delocalizzazione della produzione di caldaie in Polonia. Da qui ricatto ai lavoratori rimasti, con una riduzione sostanziale dello stipendio in cambio di un paventato rilancio aziendale con il trasferimento di macchinari e altre lavorazioni dismesse dagli stabilimenti chiusi in precedenza. Un rilancio che in realtà non ci sarebbe stato, assicurano le maestranze, ricordando macchinari faticenti e obsoleti, lavorazioni ormai superate e pertanto nessuna possibilità competitiva sul mercato e l'utilizzo della cassa integrazione con ulteriore perdita di potere d'acquisto. I lavoratori dell'Ariello di Morbegno non le mandano a dire neppure alla multinazionale americana nella cui Galassia ora rientrano. La Career Corporation scrivono ama proclamare il proprio impegno con parole come etica e parità di genere. Etica dimostrata, sottolineano con amarezza le maestranze, chiedendo straordinarie mentre si preparava la chiusura dello stabilimento stesso e il progressivo disimpegno anche in altri siti in Italia. E che dire della parità di genere? Il personale femminile all'Ariello di Morbegno ha pagato negli anni una sostanziale riduzione a soltanto 5 unità, tanto che il loro spogliatoio è stato trasformato in un deposito. Il percorso di crescita intrapreso trova oggi nuova conferma negli eccellenti risultati del primo trimestre 2024 con un utile netto di oltre 145 milioni di euro cresciuto del 53,8%. Così Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio, commenta i risultati al 31 marzo 2024 approvati dal CDA. La nostra strategia di puntare sull'attività bancaria caratteristica innovando e diversificando al contempo il nostro modello di business, spiega Pedranzini, ci ha consentito di acquisire nuova clientela, guadagnare spazi di sviluppo in nuovi territori, consolidare via via la nostra posizione, dando un concreto contributo alla crescita economica dei territori serviti. Premiati in termini di redettività, solidità e resilienza, rafforzati dalla bontà delle scelte compiute, confidiamo di replicare quest'anno l'ottimo risultato ottenuto nello scorso esercizio. E ora cambiamo argomento, andiamo a Morbegno, tante le iniziative di spazio giovane e ricircolo. L'ultima è Libri in circolo, un progetto che ha l'obiettivo di favorire la lettura mediante il riutilizzo di libri e fumetti usati. La casa è come sempre il Circolo Acli di Morbegno in via Beato Andrea. Ce ne parla Paolo Croce. Diamo una seconda vita ai libri. Spazio Giovani Ricircolo a Morbegno lancia infatti nuovo servizio rivolto ai giovani. Libri in circolo, un progetto che ha l'obiettivo di favorire la lettura mediante il riutilizzo di libri e fumetti usati. La casa è come sempre il Circolo Acli di Morbegno in via Beato Andrea. L'invito a tutti, portate i vostri libri e date loro una seconda vita. Non tutti hanno la possibilità di acquistare libri nuovi e a volte prenderli in prestito non è la scelta migliore perché c'è necessità della registruzione e invece con il nostro progetto diamo la possibilità a chiunque di aderire, cioè di poter usufruire dei libri. Un mare di libri usati, azione che aiuta l'ambiente. Poi si può leggere di più spendendo di meno, i libri costano infatti un euro l'uno. Tocco ora ai Moirbeniesi creare appunto questo mare di libri usati. Qui a Spazio Giovani i ragazzi possono trovare dei libri che sono stati catalogati per genere e muniti di segnalibro e riposti su questi scaffali che sono stati gentilmente costruiti dai ragazzi della seconda legno di Iene Plombardia che ringraziamo insieme a tutte le persone che ci hanno donato i primi libri. Libri e fumetti usati possono dunque avere una seconda vita. Questo progetto perché vogliamo dare un nuovo servizio alla comunità e ai giovani, quello del riuso dei libri. Anzi colgo l'occasione per fare un appello ai cittadini di Morbegno e a tutte le persone disponibili di aiutarci con questa iniziativa donandoci i libri e i fumetti che sono giacenti sui loro scaffali e desiderano che possano andare nel mano di qualcun altro. Anzi sarebbe ancora più bello se magari qualcuno ha appena letto un libro e ritiene che sia così bello da proporlo agli altri e perché no, ce lo può portare e magari questo libro trova un'altra persona entusiasta e da cosa nasce cosa. Circo Acli di Morbegno in via Beato Andrea, i volontari vi aspettano e non solo per questa iniziativa. E ora parliamo di un racconto teatrale dedicato a far conoscere e a rendere omaggio a colui che è considerato il padre fondatore dello sport per persone con disabilità, scritto a propria volta da un noto uomo di sport che giovedì sera porterà appunto il racconto teatrale all'auditorium Sant'Antonio di Morbegno. Ludwig Goodman, un eccellente medico, un personaggio ma soprattutto un uomo, un uomo che ha trasformato il dolore fisico e la sofferenza psichica in una totale rivoluzione disarmata portando gioia e voglia di vivere a chi ormai aveva perso ogni speranza. E l'ho fatto tramite lo sport. E a far conoscere e a rendere omaggio a colui che è considerato il padre fondatore dello sport per persone con disabilità è a sua volta un uomo di sport, Gianfranco Busi, storico coach del Sondrio Basket che dopo il recente successo dell'essenza nei colori su sport e inclusione torna sul palcoscenico con i piedi nelle scarpe. L'appuntamento è alle 21 di giovedì 9 maggio all'auditorium Sant'Antonio di Morbegno, un racconto teatrale con musica dal vivo, un inno allo straordinario potere dello sport. Quella disciplina che consente di raggiungere e a volte superare i propri limiti e le proprie capacità e crederci fino in fondo, imparando i valori dell'amicizia e consentendo di diventare più forti nel corpo e nell'alima. Gutmann capì che l'attività sportiva per le persone con disabilità poteva essere non soltanto parte di una terapia ma anche parte della vita stessa. In questo modo avrebbe aiutato i pazienti a recuperare autostima e fiducia in se stessi, riconsegnando loro anche dignità e inserimento sociale. L'impegno, la costanza, la determinazione e il prendersi cura dei sofferenti sono i sostantivi che coronano questo neurologo scampato alla Shoah e alla guerra e che ha donato tutto se stesso a chi cercava disperatamente una luce per ritornare a vivere. Non puoi mancare, ti aspettiamo. MGM 2000 chiude la stagione con un bilancio positivo. Da matricola nel campionato nazionale di A2 di Calcio 5 ha addirittura disputato i play-off e già si pensa alla prossima stagione. MGM 2000 chiude la stagione con un bilancio positivo. Da matricola nel campionato nazionale di A2 di Calcio 5 non solo ha ottenuto la salvezza ma ha strappato anche il pass per i play-off. L'eliminazione della post-season nulla toglie la stagione, anzi invita a provarci l'anno prossimo. Il presidente Marco Manenti è stato ospite della nostra radiovisione. Abbiamo chiuso sabato, la stagione almeno per la prima squadra è finita, il settore giovanile prosegue però il bilancio al termine di una stagione secondo me storica perché abbiamo fatto una cosa importante soprattutto partendo dalle difficoltà iniziali. Abbiamo un attimino cambiato la rotta durante la stagione ma era normale perché serviva tempo per amalgamare il gruppo e le idee del mister dovevano essere acquisite, imparate e messe poi in campo. Ma si pensa anche al futuro, alla prossima A2. L'anno prossimo l'intenzione nostra è quella di partire da un gruppo consolidato, da un gruppo solido quindi sostanzialmente non ci saranno grandissime novità credo. Ci saranno degli però degli innessi che ci permetteranno di poter pensare, di cercare di alzare l'asticella quindi aumentare un attimino il nostro livello e il nostro obiettivo. E questo era l'ultimo servizio, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Grazie.